simon g c'è il seppia più fresco d'europa ragazzi fagli vedere il sorriso fratelli vedi il sorriso simon g che spettacolo il pappetto si fa le foto va vai fra i miei foto con i fan fra noi che fai vedi lì hai preso il muro bello hai preso il muro fatti la foto lì fai un video fai un video fai un video dai vedi lì siamo ancora su tendenza ho sfonato tutto ho sfonato tutto grandi ragazzi sp a ragazzi non vi diciamo niente soltanto una cosa siamo da tre anni sul mercato ci sta questo ragazzo che ti fa girent che ti fa un beat di smoke perp in sei in sei minuti in sei minuti è assurdo ragazzi sentite che hit in sei minuti giuro non faccio un po' di pittà il simon g è un fenomeno si si sei minuti ma che sei matto все si cap fra si cap fraiken ha 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 non dire che Grazie a tutti